Il futuro dell'informazione è proprio questo, l'informazione di prossimità, l'informazione locale, iperlocale. Anzi, più è di prossimità e meglio fa alla democrazia. Quindi mi rendo conto che il ruolo che svolgono le TV, ma anche oggi sì, che sono il mezzo di comunicazione più facile da consultare per tutti e sono fondamentali per la presa di coscezza. Il problema è che in questi strumenti dobbiamo mettere delle informazioni, delle notizie, anzi, delle informazioni di qualità. La qualità non è sempre facile da raggiungere, anche perché sappiamo benissimo che il web da questo punto di vista è una giuga. La Puglia ha conservato per molti anni un primato, quindi è stata una delle regioni più prolifiche sul fronte dell'emittenza delle visite. Credo che sia un primato che continua anche sui discorsi relativi che tutta l'informazione del discorso che sta svolgendo. Lo dimostra il fatto che molti colleghi che nascono nelle nostre TV poi si fanno rispettare anche quando escono dai compiti regionali.